Quali sono le carte da avere in OP05? Che impatto avranno sul meta attuale e a quali leader torneranno utili? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Due giorni fa è arrivato ufficialmente sugli scaffali dei vari centri ludici nazionali il quinto set del TCG di One Piece, che ha portato molte novità a potenziare diversi deck che hanno detto la propria nei capitoli passati. Con l'arrivo del decimo starter, inoltre, un pool sempre maggiore di leader sta iniziando a popolare la scena competitiva del gioco e con gli elementi presenti in Awaking, essi di certo potranno dettare il tempo, dato che i rinforzi in arrivo in questa nuova era potenzieranno e non poco le già potenti linee di attacco e difesa dei pirati in questione. Ma con più di 100 carte a disposizione, la domanda potrebbe essere quali sono le carte più iconiche di questa espansione da avere assolutamente? In questo video ne prenderemo in esame 10, comprendendone le potenzialità e in quali deck troveranno posto, così da annoverare su quali elementi bisognerà porre più l'attenzione. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrà portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le 10 carte da tenere maggiormente d'occhio nel quinto capitolo del TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con Sabo, che a costo 6 e ben 7.000 punti di forza potrà distruggere fino a due character avversari se la loro potenza, sommata, sarà pari a 4.000, altrimenti potrete comunque distruggerne uno se verranno rispettate le condizioni d'innesco dell'effetto del rivoluzionario. Carta molto interessante da giocare in traf rosso-viola. Borsalino blu a costo 7 con 8.000 punti di forza di certo farà parlare di sé. Una volta che verrà giocato vi permetterà di posizionare un personaggio con costo pari a 4 o inferiore sotto il deck del proprietario. Carta molto interessante da giocare nel mazzo di Sakazuki, che con il suo effetto porrà sotto il mirino dell'ammiraglio lucente anche personaggi come Queen Blocker Viola. Ulti blu rappresenterà a tutti gli effetti, parere strettamente personale, il miglior sercino del gioco. Costo 4.500 in termini di potenza, il membro dei pirati di Kaido vi permetterà, se il vostro leader sarà multicolore, di guardare le prime tre carte dalla cima del deck aggiungendone una alla mano per poi rimettere le restanti in fondo al mazzo nell'ordine che vorrete. Il fatto che non ci saranno dei tratti a limitare la scelta e che non dovrete mostrare la carta all'avversario vi renderà più imprevedibili, non dando un vantaggio all'avversario che attorno alla vostra carta potrà giocarci di rimando. Carta consigliata in Sakazuki, Crocodile Blu Viola e Kaido, sempre della stessa tonalità del sabbioso. Ed a proposito di Kaido, la sua versione a costo 10 blu di certo tornerà utile soprattutto se affronterete deck come Luffy Rosso Viola, che di base vi garantirà l'innesco del suo effetto. Infatti se l'avversario disporrà di 3 vite o meno, potrete pescare 4 carte dalla cima del deck. In più, il suo valore di forza pari a 12.000 vi garantirà una solida presenza in campo, rifornendovi di elementi che, anche in fase di counter, potranno tornarvi utili. Carta consigliata per Crocodile Blu, la sua variante bicolore, Kaido, Blu Viola e Insagazuki. Trafalgar, Lo, Viola a costo 3 con i suoi 5.000 punti di forza si sposerà alla perfezione con le dinamiche della sua controparte leader apparsa per la prima volta nel decimo starter. Quando attaccherà infatti, vi permetterà di andare a cercare, rivelandola tra le prime 5 carte dalla cima del deck, un elemento con tratto Hard Pirates da aggiungere alla mano, riposizionando infine le restanti in fondo al mazzo nell'ordine che vorrete, a condizione che disporrete di meno don del vostro rivale. Carta quindi consigliata da giocare nel mazzo di Loh, lato 3 capitani, dove mancava effettivamente un motore di ricerca come questo, utilissimo anche per andare a cercare Shaki e Penguin, Beppo o i Traf, Rosso e Blocker a costo 4. Kid Viola a costo 5 con i suoi 6.000 punti di forza sarà, per quanto mi riguarda, la punta di diamante del set. Con la sua abilità Blocker, una volta per turno o durante il vostro turno, vi permetterà, quando un don verrà posto dal terreno alla sua pila dedicata, di farlo tornare in campo in stato di attivo. Carta ottima, soprattutto in combinazione con la sua controparte dello starter 10. Consigliata quindi nei deck Luffy, sia rosso-viola che viola, e in tutti i deck della stessa tonalità di quest'ultimo. Luffy, sempre viola, ma questa volta lato character a costo 10, con la bellezza di 12.000 punti di forza a supportare il tutto, una volta che entrerà in campo, andrà a posizionare tutti i personaggi sotto il vostro controllo in fondo al deck, privandovi di ben 10 don. Fatto ciò, potrete giocare un secondo turno dopo quello corrente. In più, durante la vostra fase principale, una volta per turno, spendendo un don, potrete aggiungerne un altro in stato di attivo. Carta molto interessante da utilizzare nei deck dove Cappello di Paglia vestirà i colori rosso-viola, entrando in perfetta sintonia con l'effetto di quest'ultimo. Rebecca apporterà un valido supporto a diversi mazzi. Costo 4 e 0 di forza, con la sua abilità Blocker vi consentirà, una volta che entrerà in campo, di aggiungere un personaggio di colore nero, con range di costo pari a 3 fino a 7, Rebecca esclusa, dalla pila degli scarti alla mano, giocando poi un secondo character sempre dalla mano, con costo pari a 3 sul terreno in stato di esaurito. Questo elemento rafforzerà le fila della Rebecca blu-nero, risultando molto utile anche in qualsiasi mazzo che condividerà con la bellezza di Dress Rosa la tonalità. Sakazuki quindi potrà servirsene per veder tornare sul terreno di gioco personaggi come, ad esempio, Borsalino o Kuzan, che forniranno ancor più stabilità all'intero deck. Luce a costo 4 con 6.000 punti di forza, quando entrerà in campo vi permetterà di riposizionare 3 carte presenti nella pila degli scarti in fondo al deck nell'ordine che vorrete, andando di seguito a mettere KO, un personaggio rivale con costo pari a 2 o inferiore ed un secondo con costo pari ad 1 o inferiore. Carta molto interessante, soprattutto contro Maziagro, che con Rob se la vedranno poco bene. Consiglio il suo utilizzo quindi in deck come Sakazuki, Smoker o la stessa Rebecca in combinazione con Orlumbus. E dulcis in fundo, eccoci all'unica carta che non possiederà una foilatura. El Thor rappresenterà la copia esatta di Radical Beam, ma a parti inverse. Infatti se nel caso dell'event rosso bastava avere due vite o meno a disposizione per ottenere ulteriori 2.000 punti di counter, qui dovrà essere l'avversario ad averne a disposizione due o meno. In fase di trigger comunque non risulterà essere spiacevole, dato che andrà a distruggere un caratter nemico con costo pari al numero di vite che chi vi giocherà contro avrà nella propria pila dedicata. Consiglio l'inserimento di questa carta nei deck di Enel, Katakuri, Big Mom, Yamato e tutti i bicolori che condivideranno la tonalità in questione con altre. Per tutte le carte appena menzionate consiglio assolutamente il 4x, così da avere ogni copia di disponibili da integrare all'interno del deck che vorrete giocare. Ovviamente se utilizzerete il rosso, il nero o il blu optate unicamente per le carte appartenenti alla tonalità che più vi aggraderà, non servirà acquistarle tutte. Arconte ed Enel Rush e tante altre carte che sono di certo una risorsa per mazzi competitivi? Questa lista che è stata appena stilata rappresenta una base di partenza per tutti coloro che si stanno avvicinando al gioco e dove sono state racchiuse le 10 carte che, a mio parere, rappresentano, chi più e chi meno, delle risorse fondamentali da integrare all'interno di qualsivoglia deck. Quindi preparatevi aspiranti re dei pirati, la nuova era è giunta e con essa ha molte più carte che di certo potenzieranno il meta attuale trasformando i match che affronterete in vere e proprie battaglie piene di colpi di scena. E voi, quali deck giocherete in questo quinto atto del TCG di One Piece? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.